Ebbene, questa domenica la bella Chiara Ferragni, anzi bellissima, sarà ospite del programma televisivo intitolato Che Tempo Che Fa. Mi riferisco quindi all'ulta la puntata di domenica 3 marzo 2024. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, della nostra regione in Lazio, il TAR, ha dunque infatti respinto il ricorso da parte del Codacons. Ebbene, dicendo, sostenendo che Chiara Ferragni potrà tranquillamente e serenamente andare dal buon Fabio Fazio per essere intervistata, appunto, e accanto, va bene? Quindi, state tranquilli, state sereni, Chiara Ferragni, dunque sarà che Tempo Che Fa, il buon Fabio Fazio la intervisterà, ci saranno delle domande a cui verrà sottoposta, immagino per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Immagino anche per quanto riguarda il suo lavoro, immagino anche per quanto riguarda la sua attività e l'influenza, ok? E ho video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate. Una buona giornata di Andorna Ravetano, questo video non vuole vedere le frasi da Ferragni, né di Fabio Fazio, ma solo informare sotto.